Adesso chiamiamo della Camera dei Deputati sempre Alberto Zolezzi. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui in piazza. Insomma, la politica dovrebbe essere fatta sempre in piazza o perlomeno fatta sempre con trasparenza, non avendo segreti, schermi o quant'altro. La Liguria in realtà è una regione che da vent'anni a questa parte ha accumulato misteri, segreti, i progetti che non hanno padri ma purtroppo hanno i figli perché il progetto degli scolmatori sia del Fereggiano che del Bisagno è un progetto che se poi verrà realizzato non metterà in sicurezza queste aree così come è concepita attualmente e quindi il rischio è che lo subiscano le persone che ci abitano. Rischio oltre al danno alla beffa perché non è un progetto da poco, un progetto che in tutto tra i due scolmatori verrebbe a costare circa 300 milioni di euro. Io ho fatto un'interrogazione su questo tema per denunciare il fatto che un ente di Stato che si chiama Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha riscontrato numerose difformità in quel progetto. Viene quasi quel riso tragico pensando a quelle cose che sono scritte in quel progetto. Bisogna probabilmente affrontarla con il riso tragico queste cose, cioè addirittura nella parte del Bisagno l'acqua che entrasse nello scolmatore sarebbe a pressione tanto che qualsiasi oggetto che entrasse dentro il canale sarebbe proiettato a oltre 30 metri al secondo. Cioè sarebbe una specie di cannone di giostra tipo quelle dei parchi acquatici, non un canale scolmatore di sicurezza, se entrasse un albero solo lì dentro verrebbe sparato via, che cioè se arriva al mare verrebbe sparato contro qualsiasi cosa potrebbe trovarsi in mare, navi comprese. Se invece ne entrassero due, tronchi magari si bloccherebbero perché lo scolmatore è pensato per un tronco solo, se c'è l'alluvione probabilmente metterò il vigile che controlla gli alberi che vadano l'uno dietro l'altro, insomma. Vi dicevo il riso tragico, la tragica media in questo senso, perché davvero non è quello che può mettere in sicurezza questa città che paga l'eccessivo cemento, paga il fatto che cioè sempre la tragica media va avanti con Toti che fa un piano per aumentare i volumi di cemento, aumentare i volumi commerciali, cioè pensate, oggi dobbiamo, penso che l'avrete fatto prima, bisogna ricordare oggi la tragedia appunto francese di Parigi, perché queste sono tragedie gravissime, siamo tutti vicini a questa tragedia, però ricordiamoci anche qua nella nostra realtà, costruiscono magari un centro commerciale sotto al livello del bisagno, se arriva una ruvia nella gente lì dentro, c'è una tragedia anche quella di persone inermi, esposte, in questo caso ha una mala politica che ha delle gravi responsabilità perché il problema è chiaro, si è visto quante volte il fiume è uscito, si è visto purtroppo che il clima sta cambiando e tutti magari andranno a fare la passerella alla conferenza mondiale sui cambiamenti climatici, però quando c'è invece da prendere delle decisioni sul proprio territorio, no, bisogna dare qualche contentina a chi vuole ancora costruire, non bisogna fare un'opera seria, non bisogna valutare insieme ai cittadini l'eventuale decostruzione, che è una bruttissima parola, ma è l'unica strada per liberare e aumentare la possibilità di portata del bisagno nel tratto finale che è quello verso la foce che è stato assolutamente costruito secondo progetti fin dall'inizio sbagliati e dichiarati sbagliati dagli stessi progettisti. Adesso voglio dire, noi siamo qua in piazza, ci parliamo un po' di tutto, chi ha fatto i modelli di possibile calamità a Genova, la paragonata al Vaillant, sia la situazione attuale, perché se il fiume, il bisagno fosse entrato metropolitana di giorno, come c'è entrato, le foto dell'acqua del bisagno della metropolitana non l'ho viste solamente io, premesso che anche sul resto della superficie ha fatto grossi danni, ma anche con questo progetto di scolmatore che ci dicono, vedrete che se fate i bravi ve lo facciamo, iniziamo magari nel 2020, ma le alluvioni potrebbero purtroppo esserci anche prima, quindi il progetto deve essere serio, deve essere realizzato a breve. L'altro, ieri in aula si sono spartiti 30 miliardi di euro dai beni confiscati alla mafia, che bene confiscaglieri, ma devono essere poi ripartiti in opere utili, dando occupazione in maniera razionale e sostenibile, non che vengano dati ad associazioni vicine magari a qualche partito politico senza alcuna trasparenza, poi magari succede come è successo a Palermo, dove poi questi beni confiscati andavano agli amici degli amici, perché allora noi abbiamo scritto da cosa nostra passa a cosa loro, questo perché i soldi ci sono, noi a Roma tutti i giorni vediamo provvedimenti plurimiliardari, si dice è la legge di stabilità, no, ma una parte dei soldi passano in provvedimenti precedenti, ieri è stata approvata questa volontà della disclosure, per cui chi ha affrodato il fisco, chi ha nascosto dei soldi all'estero, può sanare il suo debito, ma non è che lo può sanare riportando il denaro in Italia, lo può sanare dicendo che vabbè io pago un pochino di tasse e poi i soldi li tengo all'estero, quindi l'economia italiana non se ne giova, ma poi non è che dall'anno scorso a oggi tante persone hanno aderito, hanno aderito una piccolissima parte degli evasori, quest'anno c'è una nuova sanatoria, magari ce ne sarà un'altra l'anno prossimo, non c'è un incentivo a sanare i propri debiti con il fisco, con la propria nazione, che poi non ha i soldi neanche appunto per mettere in sicurezza e per garantire sicurezza ai propri cittadini. Noi abbiamo proposto la defiscalizzazione per le opere di messa in sicurezza contro il dissesto idrogeologico del 65%, abbiamo proposto una mappatura di queste opere, perché non esiste nemmeno la mappatura delle aree a rischio in Italia, e poi ci deve essere coraggio, parliamoci chiaro, bisogna che le persone facciano le persone, in proporzione al proprio titolo di studio, al proprio reolo, uno deve tirare fuori le palle, perché non è possibile che ci siano gli ingegneri che vedono questi progetti, hanno paura di venire qua in piazza a dire guardate questo progetto è una cagata immensa, quindi è inutile che noi aspettiamo, che preghiamo per avere i soldi, che poi comunque non serve assolutamente a niente. Però sta succedendo un pochino, perché col Movimento 5 Stelle in tanti si sono svegliati, si sono svegliati, diciamo, c'è anche alcuni magistrati, ma è normale che sia così, io devo avere una sponda se faccio il magistrato perché la mia azione venga valorizzata, qualche tecnico che sotto banco ci passa i pizzini, perché ci passano i pizzini, guarda vai a vedere quella cosa lì perché è una roba che neanche in quinta elementare scriverebbero che 2 più 2 fa 20, che più o meno è la portata dello scolmatore del design del fereggiano, è così perché non è possibile fare uno scolmatore liscio pensando che la portata aumenti perché diminuiscono le resistenze che appunto appena c'entra un abbero che spacca i bordi, quella mancanza di resistenza aumenta subito, quindi sono cose semplici, ma qua bisogna dirci. Poi qua siete anche in una zona dove avete il problema dei rifiuti, sapete abbiamo appena finito la relazione su una parte del problema rifiuti in Ligura, perché è infinito, è infinito, cioè non si riesce. Adesso vediamo come lavorerà l'equip tecnica appena arrivata, io spero che lavorino liberi da condizionamenti, liberi da aziende mafiose, io vi invito adesso, poi vi passerò il link perché è una relazione pubblica, leggete, praticamente non esiste nessuna azienda Ligure che gestisca i rifiuti, che sia totalmente staccata anche da aziende mafiose in qualche modo, quindi dal Levante all'estremo ponente e anche lì qualche magistrato è riuscito a sequestrare denari importanti, 600 mila euro a Imperia perché per la truffa facevano arrivare dei combustibili dall'Africa, li mettevano nell'impianto che doveva trattare il percolato dalla discarica di Imperia, invece era tutt'altro, quindi questi lucravano e poi però il percolato rimaneva, ogni tanto doveva essere buttato nelle fogne di Imperia perché poi non c'era in realtà un impianto per trattarlo bene, scarpino, ogni tanto un po' di percolato scende giù perché è una discarica che è ancora viva, cioè è stata impostata la raccolta dei rifiuti per buttare tutto l'umido nella discarica, cioè questa è un'azione mafiosa nel senso che voglio dire, è chiaro che l'umido e l'organico è quello che dà più problemi rispetto agli altri rifiuti. Adesso i cittadini rispondono perché appena si iniziano i programmi di raccolta differenziati, i cittadini rispondono, non è difficile, il rifiuto non esiste nel senso rifiuto organico, se guardate un bosco, un bosco spiega come gestire il rifiuto organico, cade una foglia dall'albero, cade sull'erba, l'erba più la foglia cellulosa più l'azoto dell'erba, si diventa terriccio, diventa compost, ma compost aerobico non serve un impianto di compostaggio enorme, tanto meno serve l'impianto a biogas perché quello è solo fatto perché c'è un incentivo per costruirlo, allora il cittadino è sempre lo solito animale allevato intensivamente, quindi non può neanche avere i servizi pubblici essenziali gestiti adeguatamente, è chiaro che la Liguria è una regione difficile, ci sono le colline, c'è poco spazio, ma appunto per quello raccolta differenziata deve essere fatta nella maniera più spinta possibile, ogni comune in base al suo territorio deciderà come, ma bisogna differenziare bene, incentivare il compostaggio aerobico nella maniera migliore, che si crea compost, che poi arricchisce i terreni, non togliere energia facendo biogas, che tanto l'indice di ritorno energetico è bassissimo, e poi controllare, sono venuto io a raccontare l'anno scorso che la spesa per i rifiuti regionale più alta d'Italia era in Liguria, quindi bisogna controllare, io sono nato a Sessi Levante, ai soldini bisogna starci attenti e continuare a essere, non è negativo, per cui se vedo che in Italia quelli che pagano di più i rifiuti sono i Liguri, mi sembra un'ulteriore presa in giro, insomma, e da quest'anno sarà ancora maggiore questa cosa, cioè gestire rifiuti solidi urbani, uno va su internet, ma non serve essere amministratori, fai un piano in un paio d'ore e riesci a farlo, questa nuova tecnica a cui faccio i migliori auguri, però deve togliersi dalle influenze negative di aziende che chiedono di mantenere alto il volume di rifiuti, perché se no hanno paura di chiudere, allora è questo il discorso, e poi c'è ricatto occupazionale, no, perché insomma poi chiudiamo, cosa facciamo, i rifiuti non devono andare sistematicamente fuori regione, adesso per qualche mese c'è la crisi, c'è l'emergenza, va bene, ma bisogna avere l'impiantistica minima che sono impianti di trattamento meccanico biologico, sono impianti di compostaggio aerobico, ci sono impianti di compostaggio aerobico, Liguria chiusi, tenuti chiusi, perché ma così, tenuti chiusi perché se no si risolverebbe la crisi, questo deve essere molto chiaro, comunque se qualcuno ha qualche domanda approfittate, ci sono io, c'è batteria, insomma è un agoraggio, io penso che sia giusto che intervengano anche le persone che mi avete raccontato prima delle cose purtroppo tragiche, sull'impianto della Volpara, sul discorso dello scolmatore, io penso che meglio di voi che vivete qua, nessuno può raccontarci un po' le cose, poi noi ci faremo carico di portarle a Roma o in regione, insomma.